In questo momento ci sono delle ipotesi, una è la Cancellieri, persona degna, la cui candidatura predispone il Paese a imboccare la strada dell'accordo tra un pezzo del centro-sinistra o di ciò che rimane del centro-sinistra e il centro-destra, cioè è la strada del governissimo e dell'inciucio. L'altra candidatura è quella di Stefano Rodotà, persona degnissima ovviamente, che rappresenta un cartello stradale che dice andiamo verso il cambiamento, andiamo verso una epoca nuova. Per me il concetto è semplicissimo, ieri abbiamo assistito in diretta al funerale della Seconda Repubblica, abbiamo visto la Seconda Repubblica disfarsi, era dentro una lunga agonia da tanto tempo, è nata male ed è morta. Ora, bisogna capire, c'è veramente la possibilità di congedarsi dalla Seconda Repubblica resuscitando la Prima Repubblica, in cui le alleanze emergenziali tra forze tra di loro antagoniste sembrava una cosa normale? Io credo che dobbiamo uscire da questo cimitero in cui abbiamo sepolto, in un rito neanche pietoso, la Seconda Repubblica e incamminarci verso la Terza Repubblica. Detto, diciamo, tradotto significa andiamo verso Berlusconi o andiamo verso quelle giovani generazioni che anche rabbiosamente ci chiedono di cambiare e scuotono il palazzo. Credo che i vecchi capi delle correnti del PD abbiano molto poco da dire e speriamo nella generazione più giovane dei parlamentari del PD perché possano scuotersi da questo stato comatoso e aiutare il PD a uscire da questa condizione di separazione dal suo popolo e dalla realtà.